Dopo gli eccellenti risultati ottenuti lo scorso marzo, la BNL ha aperto in tutte e tale le sue sedi per seminari economico-finanziari, coinvolgendo anche i centri impresi dello stesso istituto di credito. Si chiama Educare Day e ci sono 150 eventi organizzati nelle maggiori agenzie sul territorio. 50 invece sono gli appuntamenti che si terranno sia presso i centri che nelle sedi delle principali associazioni di categoria, nel settore dell'imprenditoria, del commercio e dell'artigianato, oltre che presso numerosi confidi locali. Si tratta in pratica di seminari gratuiti e senza finalità commerciali, con un'iniziativa che è soprattutto occasione per diventare più consapevole di come cambiano le abitudini ai clienti delle possibilità di relazione con la banca offerte dall'evoluzione tecnologica che si integrano con quelle tradizionali. Di recente si è anche svolto un convegno dal titolo No Cash Society, dedicata alla rivoluzione digitale e alle sue forti influenze sull'economia, sulla società e sui comportamenti dei singoli individui, rimarcando la necessità di una vera e propria alfabetizzazione finanziaria.